Buongiorno amici, vi rubo solo un minuto per parlare di quello che l'Europa e il governo italiano, complice e incapace, vi vogliono portare in tavola. Ho qua il documento di tutte le associazioni di produttori e coltivatori di riso, non solo in Italia, ma in Europa, che lanciano l'allarme o l'Europa si sveglia, o il governo italiano si sveglia, oppure non produrremo più un chicco di riso in casa nostra. 100.000 ettari di coltivazione in Lombardia, 100.000 in Piemonte, siamo un'eccellenza a livello mondiale, ma cosa succede? Hanno tolto tutti i dazzi, siamo invasi da riso che arriva da ogni parte del mondo, in particolare negli ultimi anni dalla Cambogia e dal Myanmar. Cosa chiedono i produttori? Cosa chiedo io da consumatore, da amante del risotto e da difensore del Made in Italy? Protezione, tutela, controlli igienico-sanitari, controlli sui fertilizzanti per la nostra salute e difesa dei nostri prodotti. Non è possibile pagare un'Europa che ci riempie di olio tunisino, riso cambogiano, arance marocchine e pesce dalla Turchia. Difendere il Made in Italy? Se il governo non lo fa, se l'Europa non lo fa, usciamo da questa gabbia, meglio soli che mali accompagnati.